E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo anche la serie A dell'Udinese, 4000 like facili che non sto neanche a conteggiare questa mattina per abbonati base è uscito un devastante gameplay con il mio PES, campionato master Fenerbahce Carle lunedì ore 21 qui signori, processo al campionato live in cui torniamo sulla partita, su queste due squadre, calcio a mercato e via dicendo vi lascio in descrizione il link di fan rating per andare a dare i voti ai giocatori di questa partita allora da cosa iniziamo? Vorrei iniziare da una nota di colore, la telecronica l'ho trovata a tratti inascoltabile per quel che mi riguarda, troppo filogenua, specialmente il commento, anche la situazione del rigore lì c'è l'incrocio di gambe, non c'era un cazzo, ah e non è la prima volta che mi succede col Genoa anche quando c'era Genoa a Verona, a tratti era veramente troppo, l'ho trovata veramente quella di Dazon troppo 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 di parte come telecronica, non l'ho gradita per niente e non è la prima volta ma a parte questo parliamo della partita ovviamente d'ambito udinese ma mi verrebbe da chiamare, come vuoi chiamarla sta partita, l'anticalcio delle ore 15 una cosa veramente imbarazzante signore, una cosa imbarazzante l'udinese quest'oggi è una cosa imbarazzante imbarazzante l'udinese, le scelte dell'allenatore per tipo di gioco chiamiamolo così, per modo di affrontare la partita, per modo di affrontare la squadra avversaria e anche le scelte a partita in corso io non ho contato un tiro in porta, mi pare che l'udinese non abbia fatto neanche un tiro in porta zero tiri in porta una partita passata a difenderti contro sì, assolutamente, un ottimo Genoa questo qui non è uno scemo, io dico rispetto per Blessin perché rispetto al nulla che c'era prima con Shevchenko in 90 minuti ha fatto più quest'oggi il Genoa in 90 minuti che in 7-8 partite con quell'altro cioè già è arrivato Migasa che mette il 4-3-3 che da inizio anno vi dicevo che il 4-3-3 per questo Genoa va bene oggi ha giocato in un simil 4-3-3 similpelle, un 4-3-3 similpelle con tre attaccanti davanti, forti, Ekuban, Yeboah, destro, molto coraggioso centrocampo a tre con un Badel in forma che faceva calcio difesa tutto sommato accettabile oggi bene, mi è piaciuto questo impatto con questo qui che non deve essere uno scemo questo qua non deve essere il scemo di turno questo qua il Genoa oggi ha fatto la partita oggi se c'era una squadra che meritava di vincere tocca dirlo, bisogna dirlo, va detto, era il Genoa non era di certo l'udinese Genoa oggi ha fatto una buonissima partita molto meglio, vi ripeto, oggi in 90 minuti che nelle 8, almeno 8-9 partite precedenti sicuramente di quelle del ciclo Shevchenko poi sì, hai anche aggiunto col mercato ma chi è aggiunto? Efti, che oggi ha fatto una buona partita Yeboah, che oggi è stato buono a livello di impegno ma si è mangiato tanto anche lui insieme ad altri però per il resto molti uomini sono gli stessi che c'erano prima e si è visto veramente anche a livello mentale non solo mentale, ma anche tattico, tecnico si è visto veramente un surplus questo qui non deve essere uno scemo e questo Blessing qui non deve essere uno scemo se devo fare il confronto tra allenatori mi è piaciuto ma molto di più Blessing di quanto ha fatto vedere oggi Gotti pur con una squadra sulla carta più forte mi è piaciuto molto di più quello che ha fatto, ripeto, Blessing rispetto a quello che non ha fatto Gotti oggi se confrontiamo il portato dei tecnici vince Blessing 80-20 se devi avere per le mani e gestire un Udinese così tanto valeva tenersi Gotti tanto valeva tenersi Gotti perché non è cambiato niente anzi oggi ho visto delle regressioni oggi ho visto delle regressioni anticalcite che sei andato a Genova a fare il catenaccio sei andato a Genova a fare il catenaccio hanno espulso un giocatore del Genoa hanno espulso il giocatore del Genoa hai passato il tempo che è intercorso tra l'espulsione del giocatore del Genoa alla fine della partita a difenderti per mettere dentro Success Levi Beto ma dove cazzo siamo? ma sei col Genoa che cazzo è? ultimo, terzultimo, penultimo in classifica ha fatto 5 tiri in porta in 20 partite e vai lì e per vedere Success in campo togli Beto che è l'unico centravanti fisico che hai che non è mai stato servito durante la partita che non è mai stato servito durante la partita povero cristiano non è mai stato servito durante la partita e al posto di dire vado ad aumentare la possibilità di affacciarmi vado a inserire qualcuno a centrocampo che quando gli arriva la palla non la sbuccia e magari mi aumenta il ratio di offensività vado a mettere Success vicino a Beto che mi aumenta il dialogo tra i due chissà che una ripartenza la sfrutto e metto dello Feu trequartista o faccio un attacco a tre per una volta provo che magari le cose mi vanno bene no togli Beto per mettere Success nel finale di gara che ti espellono il giocatore del Genoa al posto di infondere coraggio alla squadra di infondere Cazzima di dire me la vado a giocare alzo un po' il baricentro alzo il ratio metto un Samarzic in campo metti fai quel cambio Udo G per Sopì che la vabbè quello può essere anche una roba che magari il giocatore era stanco non lo so ma metti Samarzic ma se metti Success lascia Beto stavo per dire Peto lascia Beto ma poi la gestione cioè io ripeto se devi se devi gestire così ma tanto vale tenersi tanto valeva tenersi gotti ma qui bisogna iniziare a guardare il Genoa guardate il Genoa ha pescato un asso dall'estero che non lo conosceva nessuno non sto dicendo che adesso ti salva il Genoa perché ovviamente adesso è difficile arriveranno partite più complesse per carità ma è arrivato uno nuovo cioè vedi subito all'impronta di un allenatore che ha un po' di calcio offensivo che ti valorizza la squadra ma l'Udinese doveva fare anche l'Udinese un acquisto deve fare no Benkovic Pablo Mari un allenatore capace di valorizzare sta squadra che è veramente un patimento vederla giocare ma l'Udinese di quest'anno è un patimento uno sciupare individualità Marino c'ha ragione quando dice che la squadra può fare di più ma come pretendi che faccia di più se continui a mettere allenatori dei vice che tanto valeva tenersi gotti se devi giocare così ma tanto valeva non è cambiato un cazzo lo schema è lo stesso la mentalità è la stessa gioco non se ne vede anche dopo il Cagliari che giocavi vabbè contro un Cagliari disastrato che il giorno dopo hanno messo hanno messo Godin nella prima nave per il per il Sud America ha fatto anche la conferenza dire sì noi no qui abbiamo la mentalità la mentalità sì l'abbiamo cambiata perché adesso giochiamo ma dove ma dove ma dai ma non si può contro il Genoa con tutto rispetto andare a cagarsi addosso in casa del Genoa per 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 chiedere che vengano messe due punte degne di sto nome in campo con quell'altro che giustamente perché De Lofeu se c'è vabbè lo conosciamo che per vedegli passare una palla deve veramente esserci l'eclissi lunare per vedere De Lofeu che gioca per i compagni l'eclissi lunare ma c'ha pure ragione perché voglio dire non è che c'ha ragione ma lo capisco in una situazione nella quale non vedi uno straccio di proposta offensiva uno straccio di schema avrò contato una triangolazione riuscita e decente in tutta la partita dieci tiri a due oggi di positivo c'è solo risultato anche per anche per quelli che 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 speravano di vima neanche perché voglio dire col Geno oggi dovevi puntare a vincere con tutto il rispetto ma non si può ma non ma quando è che si inizia a fare del calcio propositivo a valore tu puoi prendere chi vuoi ma se non c'è uno straccio di gioco propositivo sembra veramente che che vai vai al risparmio col braccino ma non è possibile ma un De Zerbi quando è che si tu prendi un De Zerbi lo metti dalla nostra squadra ma fai un cambio radicale che a metà basta basta vedere Blessino oggi al Genoa che non lo conosceva nessuno è arrivato un po' di calcio un po' di mentalità vera e ti ha fatto vedere del calcio complice anche te che non hai fatto niente Silvestri 6 e mezzo ha fatto due miracoli specie al primo tempo Becao migliore in campo 6 e mezzo Nuitink 6 un po' lento un po' più sui colpi quest'anno comunque granitico 6 per la graniticità Perez un misto tra Nuitink e Becao bene 6 più Molina inguardabile 5 e mezzo Arslan uno dei migliori in campo 6 più Wallace bene a sradicare palloni ma spesso ne perdeva altrettanti e poco preciso nelle ripartenze 6 meno Makengo 6 per grazia divina Sopira è partito bene poi è calato dal 5 al 6 Beto a Beto do 6 perché non gli è arrivato un cazzo di pallone non è possibile che non gli arrivi un pallone all'attaccante uno ditemi un pallone polito che è arrivato a Beto un pallone polito che è arrivato a Beto non ce n'è stato uno 6 De Olofeu 6 anche 6 di un venezianesimo quando gioca De Olofeu puoi mettere sapete cosa il rondò veneziano avete gli dai la mascherina quella del carnevale veneziano il rondò veneziano è lui che tenta sempre di saltare l'uomo di tirare ha sciupato un contropiede il primo tempo per andare lui De Olofeu detto rondò veneziano veramente una cosa una cosa veramente una cosa veramente mi fermo qui Isaac success mai visto 6 Iaialo che cazzo anche qui l'idea te la dà il cambio che tu sei a Genova contro il Genova col Genova un uomo in meno e tieni Iaialo per tenere il 0 a 0 mamma mia Udo G voto 6 voto a Cioffi 5 e mezzo ditemi cosa ne pensate un caro saluto a Cioffi